Rosa che fa, arranca? Si mette a dieta, che se ne viene un infarto io non la opero. Sai Tommaso, ho pensato a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme negli ultimi dieci anni. Non me ne è venuto in mente uno. L'altro giorno ho visto il documentario sulle amebe. Ci sono alcuni esemplari che hanno una vita più attiva della sua. Domani parto. Non avevi la sala. Pensavo di lasciare medicina. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. Un figlio prete. Sarebbe come fare l'arrotino, lo zampogliaro. Io non lo voglio, un figlio zampogliaro. Dimmi papà, veloce. Riesci a capirci qualcosa tu? Adesso papà. No, perché mi sono scaricato a Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film è di Seppi Neri. Ah, l'hai visto? Non mi dire il finale. Ha organizzato tutto Don Pietro. Insomma, ogni volta che Gesù andava dai discepoli, è qui lì. Quanto è sto prete? È venuto carino, no? Ma è lui. Il prete è una copertura. Quando lo scopro, lo sputtano con mio figlio. Il problema è risolto. E come fai? Le venerdì dovrebbe far finta di essere mia moglie. Professore, ma che dice? Mi scusi Don Pietro. Io sono disperato. Ho un fratello ritardato. Sì, è mia moglie. A volte mi picchia. E come sto andando? Sto pensando di ammazzarmi. E beh, mi sembra minimo. Senti, papà, ti volevo presentare a un mio amico. Tommaso. Scusa, che ti ho piato? Io conto fino a tre, e poi la prendiamo l'agno. Uno, due, ah! Meglio? Ah no. Bene, vai. Tu devi essere contento per questo dolore, eh. Vuol dire che il signore ti sta mettendo a prova. Ma va a farlo. Buona serata. E com'è fare il prete? Ma, ti dirò. C'è questa rottura di palla della prova di domenica. Ma sto scherzass.